Siamo tornati per la seconda parte di The Evil Weekend. Partiamo subito con i caricamenti. Allora, la volta scorsa siamo trovati all'interno di un manicomio, un fogno di un manicomio, quindi da un pazzo con la mototega e siamo riusciti a scappare, la città ci è esplosa alle spalle, abbiamo avuto uno fiscopatico spigato che guidava la nostra ambulanza e ci ha fatto cadere da un diruffo finito. Vediamo un attimino dove siamo finiti. Siamo, buongiorno dottore, per me erano fusi, quel quadro che non mi cosa, eh? E' bellissimi, eh? Faccia vedere un po'? Eccola. Per me erano invece, oh mamma mia, dove ti favo la città? Posso guardare di qua che città? Stanza, 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 stanza. Dove siamo? Alla stanza, all'ospedale? Non è un obitorio, vero? Sì. Oh, dottoressa, grazie, mi puoi slegare? Ho le gambe bloccate, sono vivo, vivo. Qualcuno che faccia qualcosa? Andate. Dottori! Questo cos'è? Oh, canti. Toccare, eh? Ma chi è? Autista? Tu come ti stai conciato male, oh? Picciò? Niente baci. Eh, appunto. Meno male che è l'amico. Oh, per me è tutto la mia vita. Conciata malissimo. Dove ci troviamo? Non lo so. È giusto, eh. Cadaveri ritrovati vicino al lago. La causa del decesso resta. Causa del decesso resta sconosciuta. Magari non ho sciogliti ingua. Bellaggio di Health River. Sono stati ritrovati circa dieci cadavri. Tutti mutilati. Molti abbandonati. Manca ancora la... Ok. Molti abitanti, ok. Mancano ancora la pelle. Va bene, va bene. Cosa sappiamo poi? Ok, qualcosa. Punteggio cervello. Ci da tutto. Ehi, c'è nessuno? Nessuno no? Un'occhiata. Oltre i carapaggi che io di tanto ce vado. C'è nessuno... Oh, il dottore sa? Giorno. Siamo svenuti? Sì? Come stanno tutti, la città? Di che cosa sta parlando? Al momento, c'è soltanto lei qui. Ah, veramente siamo... Eh? Senta, mi avete dato qualche sostanza particolare, dottoressa? Un ospedale. Posso passare anch'io di qua? Questo è il posto che fa per lei. Lei qui è a casa sua. Sono stato ricoverato. Temo di non poter riferirsi. Non poter rispondere. Ok, portiamo qualcosa da fare. Prego, firmi qui. Quindi. Il modo di proteggere i suoi ricordi. Mi ricordo. Io dove vado? E qua. Grazie, tutti. Dottoressa è gentilissimo. Ho fatto già lo sguardo di riportare. Odore di ospedale. Odore di ospedale. Vale, ma che può profumare di... Che ne so. Spagno, Q, bocchialo. Una poltrona. Questa? Ah, eccola. Ma se potete dirlo, non ti credo, eh. Mi seguo? Mi seguo. Pulio un po' di ospedale. Chi non ho mai... Ecco, eh. Eh. Stammo, non c'è il tuo macco di ecco, eh. Ecco. Ecco fatto. Visto? Ora va meglio. Ma lo dicevi in un'altra maniera. Stai impazzendo. Cosa glielo fa pensare? Mi parli stanno andando a fuoco? Cazzo no! Invece sì. Ogni volta che... Tu sei mi aspetta? No, no. Ok. Siamo. Oh, ok. L'ambulanza ha preso confuso. Un po' poco. Magino che tutti siano già scappati sull'usco offerte. C'è qualcosa di... C'è qualcosa di... C'è qualcosa di... C'è qualcosa di... Oh, merda. Che diavolo sta succedendo? Eh. Dove sono? Eh, vabbè. Primo... Premier per Aspedalistica. Kidman! Dove sei? Eh. Ok. Inventario la metto qua. Connelly! Vabbè, l'abbiamo usata subito, però vabbè. Vabbè, l'abbiamo usata subito. Come cuore? Vabbè, sparro. Vai! Ok, ok, ok. Ah, c'è un banchetto. Saperlo prima. Scusi, mi lascia due tartine? Grazie. Grazie. Questa tartina. Connelly. 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 No, 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 lo devi levare di mezzo, lo devi levare di mezzo. Connelly. Su? Connelly. Mi posso st Cole. E' un po' di testa, ascolta Ha fatto spiegare tutti i golpi Connelly ha qualcosa per me, no eh Immagino che Connelly stava banchitando niente Adesso dobbiamo trovare delle munizioni per scuola Ok, vedo già lontano, una poteca Ok, la torta, perfetto Prova per noi, fantastico Ok, chi è questo? E' una giro dell'ambulanza Male, male E' questa roba che vuole Tu sei Leslie, vero? Sono un poliziotto Forse posso aiutarti Marta Come faccio a portarti in un ospedale? Ospedale, ospedale Ecco Trova da solo Ospedale, ospedale Ma che cazzo? Ho detto C'è brutta eh La tenere un po' il punto R Eh, tu c'è da brutta i pezzi Vedo io Pur sto di qua Ok Ci sono le Ok, vuoi essere questa vendita? Ma non posso Non posso picchiafo, no? Ok Vediamo di fuoco Ok, porzioncina piacevole Dottora Gorbacchi Eh, sta nascosto qua il personaggino Leslie Leslie! No, dottoressa Scusi Ah, schifatto Eh, rosmarino Va bene Ok, qua abbiamo Gino Ok Il diario di Sebastian Scusate Pausa Vedete Praticamente da quello che ho capito racconta all'inizio di Il percorso di Sebastian da poliziotto a Detective Si è premuto qua, che città? Ah, devo tener premuto fino alla fine, fantastico Ok Ok Dai vado all'inizio dal massimo, impara da abbastanza Ti trovavo qui Trovo qui Lo stai diventando pazzo Già c'eravamo pazzo Ecco, camminiamo con questa Non so dire se l'incubo fosse quello di prima o questo Premiera Che cosa le succede? Niente Tranquilla Giccia Voglio 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 curarmi Faccio mille esperti Vediamo un po' Allora abbiamo vita, riserva e armi Vita, abilità, si Sì Non posso potenziare niente La cadenza di tiro, no Tempo di ricarica Capacità Un po' Un po' Un po' Potenziamento l'abbiamo fatto Ok Andiamo citto E' ancora la dottoressa? Buongiorno Quelle preferite per le quali Chiamazioni Che cosa fa? Cacchie Segui di qua per forza, dai Ok, eccolo qua E' schiciccio P1 Andiamo dietro E' con la hit Che ne si denti torna Fatica, mettiamola Ok, ce la chiama anche il gioco Quindi è fantastico Facciamogli poco Nel tempo diamo la chiara qua intorno Se c'è qualcosa per noi Non credo Ok, lunca di che Apriamo qua dentro che c'è la Cacchino Se ci c'ho Eh, appunto Gli ostacoli Attraverso le finestre Con il Ottimo Di gioco Mare che c'è il gioco a estruirmi Ok, ok Tanti C'è il gioco a estruirmi La nuca La nuca Puri Ok, qui però c'è una staturina Vedi che c'era qualcosa? Ecco, una chiave Non so che a me serve Ma va bene Siamo molto inizierate Le bottiglie Ehi, siete di queste parti? Non so dove Ce la faccio Ok Ok signori, quindi luce, no buono Ecco Guardate questo chi l'ha invitato Credo che l'amico, eh Cazzo per... Oh No, 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 no Aia Oh Bruttissimo 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 Aia 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 Ok, è andato, è andato Oh È andato, vero? È un po' di tutto terrato, fantastico Ok, ora L'altro Dovamo andare piano piano Un po' cultivo stealth Ok, di qua non si passa però Spermi Sto buona che non credo il contadino Così lei è della zona? Presa Ok, prima mi sono alzato, non dovevo alzarmi, di quanto pare Ok, scusoletta Speriamo la porta, buongiorno Ok, ho visto il materiale qua per noi, fantastico Ok, c'è molta roba qua su Semiferi, va bene E se io pauso il cerchio, vediamo Ok Mi aspettavo una scenata, eh Volevo capire, qua posso fare qualcosa? No, non è che scaldarmi Ehm Che cosa c'è? Ma queste, se non mi sbaglio, dovrebbero essere cura, vero? Ottimo Però abbiamo solo due colpi nella pistola, signore Che non mi piace Ehm Urgocano E' proprio il pelo, eh Non l'avevo visto Ok, siamo alla stessa zona di prima Possiamo andare un po' avanti, sì Si dice gente, ma Io voglio provare ad andare di qua Posso andare a nuoto? La facciamo a far correre dieci metri La luce ti chiama Tu vai, ma quando non ci sono io Allora, vediamo un attimino di mettere via La pistola Ok Ok No Tra un checkpoint, va bene Quello come lo facciamo a prendere? Vorrei eventualmente restare basso e passare da dietro per porta Aspettate, eh Non so se vede niente qua Oltre a sentire le grandi digestioni di questi personaggi Fermi tu Se quello si gira è nostro, eh No, ma ha visto? Ha visto? Come ha fatto? Se io riesco a farlo stare là Ok Ok Se lui adesso si gira Io lo posso andare a prendere Guarda me Ok, fermi tutti Eh no Allora, siamo due senti Dai Ok 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 Tu Vedesto, non ti vede Posso trovare da qua? Ti, 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 ti Stealth Ma va bene Lo Stealth non è andato No, via Oh Meno male Via E abbiamo anche una torta Allora Eccolo là Eccolo là Fermi Incastrato Incastrato Si ha sentito il rumore della bottiglia E da dietro lo prendiamo Girare a luce Non sai Ecco Tra l'altro è andato Ok Va benissimo Questa Dovresti uscire Dovresti uscire Grazie Grazie Qualcosa è spugliato Siamo perso la torta No Vabbè Cosa che cantano Allora Ne avevo visto un altro Di qua Ok E qua la porta Non mi ha visto Lì mi ha visto Meglio fuori alla luce Ok Loro là si incastrano E questo va benissimo A questo punto Se stai in attimo Un attimo Un attimo calmo Grazie Ma vabbè Scusami Ho solo due colpi Piacere Fermo Stop Ecco Ah no Ne ho di più di due Vabbè Allora Ottimo Questo si può fare Comunque non mi hanno dato niente Ma che delusione E a parte che mi si chiedeva Una trappola Nei piedi Dobbiamo fare un attimo Più attenzione Alle trappole Che ci possono essere In giro Ehm Qua non so nulla Dobbiamo ammazzare Qua Sembra Tutto praticamente È andato a fuoco Beh Cavalchiamo dalla finestra Vabbè Non c'è nulla di particolare Qua Speravo di trovare Mamma mia signori Il doppista Al primo secondo Eh Ok Tolta pure questa L'ultima occhiata Qua davanti Non c'è niente Beh direi che siamo arrivati Eh C'è questo Fuoco Ma questi stavano vivi Eh Ma che spoi Oh Oh La tocca Scusi Fa fuoco Ok Vai Dai Se passi Anche ce la puoi fare Ecco come si è scorta Ok Tutto caduto Tutto aperto Va benissimo Così Sperando Scusate ma quanti ce ne sono là No Sono troppi Non abbiamo tutte queste Preparatorie Per farli fuori tutti Eh Ok Tanti eh Oh my god Magari se basti Noi dobbiamo andare di là E là c'è un altro Meno che noi Non restiamo Basti Eh no Piccola corsetta Dai Piccola corsetta Maglio levarsi di qui Sì certo Cercando di farti Risparmiare un po' di fiato Eh Ok Sono tanti Sono tanti Putta giù uno di quei falocchi Mamma mia Ma questo a me non l'ha fatto Ma chi senti Anna Johnson Ecco Ma come ci guardano Sono stati bulli Siamo stati bullizzati Da degli zombie Ecco scappate Capitolo 2 Superato Perfetto ragazzi Io direi che anche Per questa puntata Va bene Abbiamo scoperto Le nuove abilità Del nostro personaggio Anche fino da migliorare Per quanto riguarda L'attività Ma quello che faremo Lo scopriremo Nel prossimo video Perfetto ragazzi Io vi saluto Con questo Alla prossima Salva Bati E Dona Davide Ciao